La DDA di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di 80 indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla costa degli Zingari del capoluogo calabrese. Il GIP che era esposito ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 8 febbraio. In particolare sono accusati di associazioni per delinquere di stampo mafioso. Luigi, Massimo Bevilacqua, Luciano Bevilacqua, Vincenzo Berlingeri, Domenico Passalacqua classe 73, Ernesto Bevacqua e Massimo Berlingeri, ritenuti esponenti del clan Passalacqua Bevilacqua, sottoposto al controllo e alla signoria del locale d'Indrangheta di Isola Caporizzuto. Gli imputati sono accusati a vario titolo anche di una lunga serie di estorsioni procurate in osservanza della pena, delitti in materia di armi, ricettazione, rapina, furto e corruzione. L'indagine contempla anche il traffico di sostanze stupefacenti che sarebbe stato direttamente collegato alla famiglia Mannolo di San Leonardo di Cutro, dove si trovava la base logistica per il rifornimento e l'occultamento della cocaina. Il ponte era nato grazie ai legami di parentella createsi tra le famiglie di Mannolo e Passalacqua di Catanzaro. Nell'inchiesta è coinvolto anche un assistente della polizia penitenziaria in servizio a Catanzaro. Parliamo di Domenico Sacco, accusato di aver favorito attraverso condotti attive, anche quelle passive, lo spaccio di cocaina. In particolare Sacco, in contatto diretto e continuo con i detenuti della casa circondariale di Siano, forniva un decisivo contributo al funzionamento dell'organizzazione, garantendo così assistenza e veicolando messaggi ai detenuti, e mettendolo anche in guardia sulla possibilità che venissero intercettati. Tra i reati contestati c'è anche la corruzione, poiché Sacco si sarebbe fatto promettere e dare denaro ad altre regalie per far appunto entrare in carcere beni non consentiti o per veicolare messaggi.